Il nostro paese ha una nuova giunta annunciata da tempo, nasce a circa 72 ore dopo la revoca della precedente. Un'aggiunta lampo. Nessuna sorpresa si legge nella nota del gruppo consigliare del PD per il domani. Tuttavia una mera operazione elettoralistica in funzione del voto del prossimo anno. Una misura che non serve a nostro avviso a dare slancio ad una maggioranza in evidente debito di ossigeno in totale confusione, nettamente indebolita con la sostituzione inspiegabile del vice sindaco Francesco Capuano, la cui vicenda politica ha creato evidentemente qualche affanno al sindaco e riteniamo qualche altro gliene creerà nell'immediato futuro. A Franco Capuano va la nostra solidarietà umana e politica, siamo pronti ad accoglierlo nel gruppo consigliare e nel circo democratico cittadino, luoghi a lui più consoni per storia personale, tradizione familiare, cultura, retroterra, politico e ideologico. Bentornato Franco, ti ricordiamo che il tempo è galantuomo. Per il resto uno spettacolo grottesco, una farsa per nascondere debolezza politica, mancanza di idee e prospettive. La nuova giunta vede due conferme, Lanzotti e Nista, una surroga da Manuel Cencelli, Mauriero Perbello, e una new entry, tutta da scoprire, da Antonio, già candidata non eletta nelle file di una lista alternativa a Pisano nel 2016, esponente di una non ben definita formazione civica. Le deleghe? Leggere quelle assegnate, mentre le più pesanti, manco a dirlo, sono tutte rimaste strettamente in capo al primo cittadino. Lavori pubblici, finanze, tributi, condenzioso, bilancio, personale. Praticamente l'aggiunta è lui, considerato in netto squilibrio tra le sue e le altre deleghe, e tutto ciò in splegio al normale funzionamento di una moderna e rispettosa democrazia rappresentativa. Della serie. Un uomo solo al comando. Ancora una volta, a distanza di più di quattro anni dal vuoto del 2016 a otto mesi da quello del 2021, a pagare d'azio è una delle forze a sostegno del sindaco, cioè l'associazione Liberamente, che conta se non erriamo tre consiglieri comunali in carica, nessuno dei quali neppure stavolta è stato preso in considerazione per un posto in giunta. La cosa ci lascia, perplessi e pieni di dubbi. Ci chiediamo perché mai liberamente si sacrifica nuovamente, non chiede e non ottiene una rappresentanza legittima in giunta, pur avendo tra le sue fila, come dicevamo, almeno tre eletti. Strano. Evidentemente saranno garantiti dal sindaco medesimo, oppure lui stesso che volutamente li ha esclusi dal rimpasso per ragioni che oggettivamente abbiamo difficoltà a comprendere. Per concludere ci sembra che la giunta neodesignata, alla quale rivolgiamo comunque un cordiale e buon lavoro, difficilmente riuscirà con la sua azione amministrativa a invertire una tendenza consolidata da mesi ormai che vede il sindaco Pisano e la sua maggioranza perdere rovinosamente terreno in fatto di credibilità e consenso. E intanto il 2021 è sempre più vicino e per noi forze dell'opposizione si annunciano tempi fausti, mentre per l'architetto Pisano si addensano nubi e tempeste. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Buongiorno. Allora, novità non ce ne sono neanche per questo weekend in corso, quindi ci aspettiamo tempo stabile e soleggiato con temperature anche al di sopra dei 30 gradi. Per la prossima settimana invece ci aspettiamo un temporaneo calo dei G potenziali, specie sulla fascia costiera campana, con il rischio di qualche fenomeno isolato. Per quanto riguarda invece a fine mese, probabilmente, ma ancora da confermare, è possibile che la nostra campagna possa fare i conti con perturbazioni atlantiche che possano dispensare le famose piogge autunnali con un drastico calo termico, ma attendiamo conferma. Un saluto a tutti, al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Grazie a tutti.